eccoci eccoci al lago pontini altro lago del classic quindi ci siamo spostati allora vediamo subito le condizioni abbiamo un vento più insistente come è sempre rispetto al lago lungo quindi un vento che batte soprattutto in questa parte finale del lago la in fondo invece non so se si riesce a vedere c'è un po più di piatta quindi in base al settore dove si pesca si trovano diverse condizioni climatiche diciamo meteo diverse condizioni meteo concorrenti in gara stiamo ad evita distanza anche per i lanci quindi condizioni totalmente diverse qui al pontini siamo nel settore a praticamente quello di inizio lago come dicevo insomma condizioni differenti e tutto ancora almeno un paio d'ore di gara ecco qua che poi si allunga da questa parte e là in fondo come dicevo coperti dal vento quindi diverse situazioni un lago più più vasto sicuramente forse più più difficile da affrontare per i concorrenti